Dopo il Trasimeno nell'urbe si diffonde il panico, che accresce anche a causa di altre notizie nefaste, infatti Servilio, il console sopravvissuto, durante un breve scontro con i punici perde tutta la sua cavalleria. Ai Romani non resta che nominare un dittatore e la scelta cade su Quinto Fabio Massimo, un uomo esperto che passerà alla storia come il temporeggiatore. La sua strategia è molto semplice, rinuncia a scontrarsi in campo aperto con il nemico e, sul fronte politico interno, rinsalda le alleanze con i popoli italici che, nella loro quasi totalità, non tradiscono Roma. Annibale invece non assedia l'urbe e si sposta in Apulia, con l'intento di raccogliere il sostegno delle popolazioni alleate romane. La manovra però si dimostra inefficace ed è quindi costretto a spostarsi nel sannio per rifornirsi e prepararsi per l'inverno.